...messe ai balotelli, ma per l'attaccante rosso-nero questa data verrà difficilmente dimenticata. Dopo l'udienza infatti il Pontefice l'ha voluto incontrare privatamente per qualche minuto. Il contenuto naturalmente top secret, magari gli avrà ricordato che anche lui spesso viene riproverato in Vaticano perché è troppo indisciplinato. Non solo però scherzi e sorrisi perché Papa Francesco ha lanciato un messaggio chiaro e diretto. Ha voluto ricordare i calciatori di prendersi le proprie responsabilità, di essere uomini prima che calciatori in un mondo che troppo spesso dimentica le proprie origini. Voi cari giocatori siete molto popolari. La gente vi segue molto, non solo quando siete in campo, ma anche fuori. Questa è una responsabilità sociale. Questo vi porta a pensare che prima di essere i campioni siete uomini e allora, anche se siete personaggi, rimanete sempre uomini. nello sport.